L'amministrazione comunale di Caltanissetta partecipa alla raccolta firme sul disegno di legge d'iniziativa popolare per l'integrazione al reddito contro la povertà assoluta. In cosa consiste innanzitutto questa integrazione? Vorrei dire alla nostra città che da oggi, presso gli uffici a pian terreno dell'URP, ogni cittadino di Caltanissetta può venire a mettere, nelle ore antimeridiane, una firma per questa proposta di legge. Una proposta di legge che è stata pensata dall'Anci, cioè dall'Associazione dei Comuni d'Italia, per una proposta di legge a livello regionale. Questa proposta di legge, ci sono state tante proposte di legge sul reddito minimo di cittadinanza, ma questa è rivolta al governo regionale. Non ci interessa a questo punto quello che si fa nel resto d'Italia, proviamo a concentrarci sulla Sicilia. Ci sono dei fondi che in maniera frammentata potrebbero essere omogenizzati, messi insieme, per dare ad ogni cittadino che non arriva ad avere alcun reddito la possibilità di avere una sorta di social card che gli permetterà di integrare il poco salario o l'assenza di salario in maniera tale da avere garantita la sopravvivenza. I servizi sociali andranno a verificare il reale stato di bisogno di queste persone che ne faranno richiesta, ma questo naturalmente dopo che le persone che ne hanno diritto tramite i CAF, tramite i patronati faranno domanda. Ma questo naturalmente solo se la legge verrà approvata, per cui non vogliamo creare delle false attese, delle false aspettative. Dobbiamo intanto raccogliere le firme. Raccogliendo le firme, raccogliendo un quantitativo considerevole di firme, verrà fatta questa proposta di legge e se poi l'Assemblea regionale la approverà, noi avremo finalmente la possibilità di dare ai cittadini, che ne hanno di bisogno, il minimo per poter vivere. Nella nostra città si calcola che ci sono 8.000 disoccupati, oltre 750 famiglie e nuclei familiari senza abitazione. Viviamo in una città che ha bisogno di questo tipo di sostegno. Quindi in pratica se passa questa legge, la social card, a chi viene destinata? Viene destinata alle famiglie indigenti. In Sicilia quasi il 30%, una percentuale elevatissima rispetto al resto d'Italia e al resto d'Europa. Crediamo che in questo momento un segnale forte alle famiglie bisognose vada assolutamente dato. Proprio per questo deve essere stata avviata questa raccolta firme. Noi come Quinta Commissione Consiliare abbiamo aderito e promuoveremo in questi giorni questa raccolta.